Sabato 27 e domenica 28 aprile torna a Quornier la mostra del coniglio, terza edizione, organizzata dall'Arca Allevatori Razze Cunicole Amatoriali con il patrocinio della città di Quornier. Esposizione e vendita di conigli di razze selezionate italiane Una mostra dedicata a tutti, grandi e piccini, per conoscere questo affascinante mondo La mostra è interamente al coperto, con ingresso d'offerta Al palafiere, ex-manifattura, via Evrea Cento a Quornier, un evento da non perdere Vi aspettiamo sabato 27 aprile dalle 9 alle 18 e domenica 28 aprile dalle 9 alle 17 con la terza mostra del coniglio Grazie! Grazie! Grazie!